L'inizio della roadmap delle riaperture nella fase 4 dell'emergenza sanitaria per l'Abruzzo coincide con il ritorno da oggi in zona gialla e dunque con un allentamento delle misure restrittive con le quali si è convissuto per buona parte dell'inverno. Eccezione fatta per gli 11 comuni che permangono zona rossa è concessa la visita a parenti ed amici una volta al giorno verso una sola abitazione in quattro e non più in due oltre ai minori e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La regola vale per le regioni gialle ma anche per quelle arancioni. In questo secondo caso però lo spostamento si riduce all'ambito comunale. Più in generale il trasferimento verso altri territori rimane libero tra le regioni gialle. Per muoversi invece tra regioni in faccia arancione o rossa è necessaria l'autocertificazione per i consueti motivi. I viaggi per turismo invece sono possibili con la sola certificazione verde. un pass per chi è già vaccinato, ha effettuato un tampone antigenico molecolare nelle 48 ore precedenti o per chi è guarito dal covid. Nelle seconde case poi si potrà andare anche con gli amici ma al massimo in quattro persone. La regola non vale per le zone rosse dove è permesso recarsi solo al nucleo familiare e a casa disabitata. Dopo mesi di attesa c'è poi le via libera al ritorno nei ristoranti anche a pranzo in zona gialla ma solo fino alle 22 ed esclusivamente all'aperto. Vietato il caffè al banco ma dal primo giugno sarà concesso ricevere i clienti all'interno del locale fino alle ore 18. Rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Molto attesa anche la riapertura dei cinema e dei teatri. In zona gialla da oggi si può tornare ad accomodarsi in platea con posti a sedere preassegnati e nel rispetto della distanza di un metro tra gli spettatori che non sono conviventi e tra il personale. La capienza non può superare il 50 per cento di quella massima autorizzata. Il numero di persone non può in ogni caso essere maggiore di mille nel caso di eventi all'aperto e 500 nel caso di spettacoli a chiuso. Per il capitolo scuola tra i più dolorosi di questa pandemia covid che ha tenuto lontano dai banchi gli studenti per oltre un anno in Abruzzo si torna in classe al 70 per cento nelle scuole superiori ma in presenza totale per le classi quinte che devono preparare la maturità. Le stesse percentuali valgono per le zone rosse. Fino alla terza media invece la didattica è in presenza per tutti. Per quel che riguarda le università il decreto del governo Draghi prevede che da oggi fino al 31 di luglio nelle zone gialle ed arancioni le attività curricolari possano svolgersi prioritariamente in presenza. Infine lo sport da oggi nelle zone gialle è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Dal primo di giugno sempre nelle fasce gialle saranno anche aperti gli stadi per eventi e competizioni agonistiche. La capienza massima non dovrà essere superiore al 25 per cento del totale e in ogni caso con un numero massimo di mille spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Proseguendo poi con la tabella di marcia delle riaperture il prossimo 15 giugno toccherà alle fiere. Dal primo di luglio sempre in fascia gialla si potranno organizzare convegni e congressi, si potrà andare alle terme e verranno riaperti anche parchi tematici e di divertimento.